per la difesa dei nostri territori per la difesa dei nostri diritti, per la salute, per l'ambiente che questa regione, molto più che in altre, sono quotidianamente messe a rischio e lo facciamo nelle nostre strade quelle nelle quali da anni, ogni giorno, sfidiamo quelle in cui ogni giorno costruiamo microesperienze di resistenza alla crisi il lavoro, non è neato saldici, sociali, alcuni proletari grazie 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 grazie